Restare in cattedra oltre i 60 anni alle condizioni attuali appare davvero poco compatibile con la necessità di garantire la salute psicofisica del personale docente. D'altronde l'articolo 28 del decreto legislativo 81 del 2008 esige la massima tutela della salute del lavoratore considerando anche le due variabili fondamentali, il genere e l'età. Nel caso della scuola il sistema delle maestre nonne deve assolutamente cessare. Usando queste parole il professor Lodo Lodoria, uno dei massimi esperti di malattie professionali dei docenti, ha scritto una lettera aperta al ministro Fioramonti invitandolo a prendere al più presto in considerazione la proposta di consentire agli insegnanti la pensione anticipata. Il problema sollevato dal professor Doria è reale e particolarmente sentito da una parte considerevole dei docenti. Intanto va detto che, secondo i dati più recenti diffusi dallo stesso Ministero dell'Istruzione, solamente il 2,6% degli insegnanti ha meno di 34 anni, il 20,6% ha tra i 35 e i 44 anni, il 36,9% tra i 45 e i 54, mentre tutti gli altri, e cioè il 40% hanno più di 54 anni. Volendo poi fare un paragone con gli altri paesi europei, possiamo dire che l'Italia è l'unica nazione in cui gli insegnanti over 50 sono di più rispetto a quelli con meno di 50 anni. E non risulta che le recenti misure in materia pensionistica, tra le quali la cosiddetta quota 100, siano servite a svecchiare più di tanto la categoria. Questo anche perché l'Italia è il paese in cui i docenti entrano in ruolo più tardi. Le parole di Doria sono state accolte con commenti contrastanti. Molti docenti apprezzano l'appello del professore al ministro, ma a tanti altri non piace l'espressione maestre e nonne. Le maestre e nonne, affermano infatti molti insegnanti, rappresentano un grande valore di esperienza e di professionalità. E' anche vero sostengono altri che, soprattutto nell'infanzia e nella primaria, dopo i 60 anni, diventa davvero faticoso continuare a lavorare. La verità, come spesso accade, potrebbe stare nel mezzo. I docenti ultra-sessantenni sono certamente un grande serbatoio di esperienza che però forse andrebbe usato diversamente, per esempio per formare o per sostenere i colleghi più giovani, che iniziano la carriera e quindi con un orario di cattedra ampiamente ridotto. Ma una riforma di questo genere costerebbe parecchio e allora, almeno per il momento, è molto difficile che l'appello del professor Ordoria venga accolto dal governo. Comunque siamo in fase di redazione della legge di bilancio, quindi non si può dire ancora nulla di preciso, per cui su questo tema noi continueremo a occuparci. Voi continuate a seguirci sia su questo canale, sia nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it, leggeteci ma soprattutto scriveteci, mandateci i vostri commenti, ne daremo conto.